black mood 2 nuovo disco che esce a quattro anni di distanza dal primo volume di black mood quanto ti senti cambiato e cresciuto sia artisticamente che umanamente in questo lasso di tempo eh beh tanto sono successe tantissime cose soprattutto il covid cioè la pandemia è stata parte fondamentale e dove dove sai capisci delle cose che che prima erano magari scontate che poi non lo sono più cioè il tempo e la libertà quindi sicuramente quello ha influito molto anche sulla scrittura di del secondo capitolo è un disco molto ricco con ben 14 tracce si va da argomenti magari più introspettivi ad altri più leggeri diciamo che il filo conduttore è un po' il tuo tipo di scrittura e il tuo mondo che era chiuso in questi brani sì 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 assolutamente ho cercato di di trovare varie sfaccettature e di non renderlo e di non renderlo troppo uguale tra una traccia e l'altra e appunto come hai detto tu ci sono sia delle tracce un attimino più leggere sia delle tracce più introspettive e cupe che sono comunque tutte collegate tra di loro però appunto avendo voluto far vedere tutti i lati miei ho voluto appunto non solo tenere il lato introspettivo ma anche far vedere che ogni tanto riesco ad essere riesco a non prendermi sul serio anch'io ecco riesco che si apre con climats in cui sostanzialmente fai un po' la somma dei diritti umani della tua vita mi viene anche da metterlo in paragone con una lacrima a meno che tratta il tema di una sorta di sindrome dell'abbandono facendo riferimento a un episodio che riguarda la tua vita privata cioè il fatto che quest'anno grazie alle Iene ha avuto modo di conoscere per la prima volta i tuoi genitori sì allora in realtà quel pezzo è stato scritto prima quando quando è successo quell'avvenimento il disco era già praticamente fatto era già completo tranne Felina che appunto è l'ultimo pezzo che ho scritto di questo disco dove appunto faccio riferimento proprio all'aver ritrovato mio padre e comunque sì nel senso una lacrima in meno fa riferimento alla sindrome dell'abbandono per quanto riguarda le relazioni sentimentali però ecco sì ho voluto spero che possa però comprendere la sindrome dell'abbandono al cento per cento e non solo nella fase di una relazione ecco invece l'album si conclude con buio luce diciamo che forse è il brano più speranzuoso dei quattordici è voluto proprio chiudere con questa chiave un po più felice sì buio luce è stata invece la prima che ho scritto dell'album ed è quella traccia che mi ha fatto capire che dove sarebbe andata la direzione del disco è stato lì che ho deciso forse questo è il secondo capitolo di black mood e paradossalmente è l'ultima traccia del disco perché chiude un po questo questo film no e dove appunto l'ultima l'ultima frase e poi rivedrò la luce quindi diciamo che il disco si apre senza senza un filo di speranza e si chiude con invece un filo di luce che si che si inizia a intravedere ecco per questo l'ho messa come come ultima un'altra traccia a cui sei anche con l'altro molto legato è tutorial il test appunto che racchiude il messaggio e va lanciato sì no tutorial è sì è uno dei miei pezzi preferiti e meglio riusciti secondo me del disco e ci ho messo un pochino a scrivere quel pezzo perché volevo non volevo essere scontato in quello che poi ho detto ovvero cioè volevo spiegare che è impossibile imparare ad essere felici quindi ho detto devo trovare una metafora devo trovare qualcosa di che possa far capire subito l'ascoltatore e poi mi è venuto in mente cavolo c'è ogni tutorial ci sono i tutorial anche per per andare sulla luna però non c'è un tutorial che ti spiega come essere felice e quindi adesso te l'ho detto in un secondo però ci è voluto molto tempo per arrivare a questo discorso tu sei un esponente del pop punk genere tra l'altro che negli ultimi anni come ti spieghi se te la spieghi insomma questa cosa purtroppo è un genere che ormai non non ha abbastanza seguito non abbastanza pubblico nel senso se fossimo nel 2000 allora ti direi di sì purtroppo nel 2023 sì c'è una c'è una nicchia che sicuramente è una nicchia nostalgica secondo me tipo me però non 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 reputo che sia un genere pronto a tornare nell'industria ma che possa che 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 secondo me rimarrà e basta ma non abbastanza ecco incontrerai fan in cinque date in store nei prossimi giorni e invece per quanto riguarda il lato dei concetti ci saranno sicuramente ci sarà un tour ehm 2024 inizio 2024 ovviamente non abbiamo ancora le date giuro che non è una palla non abbiamo veramente le date stiamo adesso opzionando delle date ma è inutile dirle perché poi magari cambiano però sì sicuramente ci sarà un tour e le location saranno il club sì sì allora quindi in attesa di poterti rivedere dal vivo eh ricordiamo Black Mode 2 il nuovo disco di Johnny Scandal fuori su tutte le tette come digitali dal 22 settembre è stato un piacere Grazie mille Grazie mille Grazie mille